MG ZS con motorizzazione 1000 GDI da 111 CV del 2023 e con soli 1000 km E partiamo subito dagli esterni, intanto vi ricordo che l'allestimento è Luxury Gruppi ottici a LED, fari pendinebbia, cerchi in lega diamentati bicolor da 17 pollici Frecce integrate negli specchietti, sistema di apertura Keyless, kit cromo inferiore, barre porta-tutti Sensori di parcheggio posteriori, doppio scarico cromato, videocamera posteriore e un bagagliaio molto ampio Cosa fondamentale da sapere su quest'auto è che è pari al nuovo e il proprietario la cambia per un'auto di dimensioni più piccole E adesso spostiamoci negli interni che come potete vedere sono in eccellenti condizioni Vi faccio una veloce carellata degli strumenti Comandi al volante Richiamo vocale Display per l'infotainment con Apple CarPlay e Android Auto Cambio manuale a 6 rapporti Doppio tettino in cristallo Per visionare il servizio fotocompleto e avere maggiori informazioni riguardo il prezzo e gli accessori Clicca sui link che trovi in descrizione Clicca sui link che trovi in descrizione